Bene amici del Sound Talk World, video che sto girando con il TP-Link Nefos C5 Max Questo è il primo piano, quindi un video macro su dei piccoli fiorellini Andiamo a vedere come funziona la messa a fuoco, messa a fuoco piuttosto veloce Stiamo parlando di un terminale che per ora risulta essere il top di gamma di TP-Link Intanto facciamo un pan veloce, vediamo che le case bene o male non si storpiano E comunque la qualità del video è buona Dicevo è per ora il top di gamma di TP-Link Però parliamo di un prodotto che non si sa ancora la fascia di prezzo che avrà questo prodotto Però sicuramente sotto le 230 euro questo sicuramente Andiamo a fare un primo piano sul rosmarino Primo piano che viene bene andiamo poi su il nostro basilichino Vedete che la qualità del video è davvero buona C'era un insetto sulla mia mano Andiamo a fare un primo piano sul basilico Poi ritorniamo sulla casa, vediamo la messa a fuoco come reagisce Andiamo a vedere un attimino Messa a fuoco che devo dire piuttosto veloce La qualità del video la state già vedendo voi Andiamo a fare un primo piano sul mio gelsomino Eccolo qua Perfetto Quindi dai il video che devo dire Lavora in maniera egregia senza nessun tipo di problema Diremo a dire che anche la qualità del video è molto buona Va bene dai per questa breve preview è tutto Vi ricordo che questo è diciamo il software non definitivo Quindi può essere che con il prossimo aggiornamento di TP-Link Sicuramente il video verrà migliorato E niente dai al prossimo video Ciao a tutti da Alessante Quad Bye bye Ciao a tutti 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 Grazie.